Ora la palla a volo, in Serie A2 torna al successo, seppure al tie-break la SIECO impavida Ortona, pur senza il bomber Cantagalli a causa di un risentimento agli addominali, gli impavidi vincono 3-2, state vedendo le immagini, in trasferta contro Lago Negro. Alta allenante la gara degli ortonesi, la squadra ha cominciato bene ma poi si è affievolita nella parte centrale subendo il ritorno dei padroni di casa. La gara è cambiata nel quarto set quando l'inerzia si è spostata dalla parte della SIECO che ha chiuso dominando e portando a casa due punti preziosi in chiave playoff. I parziali 27-29, 25-20, 25-20, 16-25, 9-15, in poco più di due ore di gioco. Tra i singoli in casa SIECO da segnalare i 29 punti dello schiacciatore Felice, 7. Nell'anticipo di sabato prossimo, valido per l'ottava di ritorno, la SIECO riceverà il Brescia.